Ciao a tutti, benvenuti nel canale, in questo primo video vi spiegherò come completare la sfida di entrare nel magazzino di Gattogrill Gattogrill è la nuova località che trovate qui praticamente, non potete fare questa sfida in rissa squadre, quindi selezionate una qualsiasi altra modalità che non sia rissa squadre Tutto quello che dovete fare è di trovare Gattogrill, il nuovo boss di Fortnite, eliminarlo, prendere la sua scheda ed entrare nel cavo che trovate appunto qui dove c'è scritto Gattogrill Qui ci sono due strutture come potete vedere, solitamente Gattogrill compare in questa struttura sulla destra, però potete trovarlo anche a sinistra Non ha un luogo ben preciso, quindi partiamo alla ricerca di Gattogrill, uccidiamolo, prendiamo la sua scheda ed entriamo nel cavo che potete trovare qui praticamente Il cavo è sempre qui, Gattogrill cambia sempre posizione, ecco forse siamo stati fortunati, lo becchiamo subito, no, è un bot, ok, niente Dobbiamo trovare appunto Gattogrill, una volta trovato lo uccidiamo e prendiamo la sua scheda ed entriamo nel cavo Diciamo che è un'operazione tutt'altro che semplice perché ci sono anche i giocatori a rompere le scatole perché ovviamente tutti vogliono fare questa sfida E noi ce li togliamo di mezzo e cerchiamo questo Gattogrill La posizione è random ragazzi, ecco questo è il cavo, la posizione è random quindi dovete essere fortunati e beccarlo senza morire praticamente Non potete sbagliarvi perché l'aspetto di Gattogrill è inconfondibile, è la nuova skin del pass battaglia tra l'altro quindi non potete sbagliarvi Una volta che lo trovate lo ammazzate, prendete la scheda e diciamo potete entrare nel suo cavo Ora ammazziamo un paio di giocatori così ce li togliamo di mezzo e cerchiamo questo Gattogrill Che non è facile, tra ecco il giocatore sta cercando di uccidermi Non è facile perché insomma come vi ho detto cambia sempre posto quindi non è per niente facile Questo è un giocatore mascherato, no è un bot Wow, sei anche troppo intelligente Allora entriamo dentro qui così non veniamo disturbati dai bot E cerchiamo Gattogrill Con calma Sperando che non ci siano altri giocatori nei paraggi a rompere le scatole Vediamo un attimo Intanto armiamoci per bene Avrei voluto fare questo tutorial come i classici di Fortnite, velocemente Ma non mi è possibile perché ecco come vi ho detto Gattogrill non ha una posizione fissa Cioè dovete girare, girare, girare fino a quando non siete fortunati e lo beccate Ecco forse è questo No, non è nemmeno questo Intanto apriamo i forzieri Magari troviamo qualche arma buona che mi può tornare utile contro Gattogrill Perché comunque è sempre un boss E quindi dovete insomma farlo fuori Vediamo se riusciamo a trovarlo qui No, questo è un nemico classico Forse magari nella struttura Tipo ci ho provato tante volte Ogni volta era sempre in un luogo differente E mi uccidevano altri giocatori Oppure mi uccidevano i bot Eccolo qua, eccolo qua ragazzi Vediamo se riusciamo ad ammazzarlo Senza morire Vediamo Non Ne dubito Ok, forse ce la faccio Speriamo Cacchio non devi caricare adesso Muori Gattogrill Grande, dammi la scheda Grande Allora ragazzi sono stato fortunato Spero di non crepare Qui è dove potete aprire il cavo di Gattogrill Aiuto No, non posso adesso morire No, ti prego Adesso no Adesso no Apri, 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 apri Eccoci qua ragazzi Ho fatto la sfida Grande Questa era la posizione Questa era come fare la sfida La guida Quindi spero vi sia tornata utile Questa era come fare la sfida